Bene, grazie Cesare. Io prendo per iniziare uno spunto proprio da quello che diceva Cesare per quanto riguarda lo spreco dell'edilizia. Io sono venuto a Roma per la prima volta per stare per un anno nel 1959 e ho abitato insieme al mio nonno Luigi Inaudi e la nonna per quel periodo quando andavo all'università di Roma per seguire dei corsi singoli e cosa mi aveva attirato a Roma oltre che i nonni ma era la persona di Pierluigi Nervi e Pierluigi Nervi era proprio diciamo l'ideale senz'altro di Luigi Inaudi da un punto di vista di impresa costruttiva, di iniziativa perché lui i concorsi pubblici li vinceva offrendo l'offerta migliore non solo di 10% 20% adesso è costume di fare offerte di 40-50% in meno per costruire perché levano i soldi dalla funzionalità dell'opera e le opere pubbliche vanno a finire costi impossibili. Nervi diceva che era un dovere morale, sembrava di sentire Luigi Inaudi, un dovere morale costruire in modo economico ma il suo modo economico non era quello di risparmiare sui materiali ma era di inventare nuovi sistemi costruttivi. E' lui che ci ha lasciato tutte le opere delle Olimpiadi a Roma che ancora adesso sono sono magnifiche, usate, così io ho avuto questa diciamo inizio a Roma tra gli insegnamenti di Luigi Inaudi e gli insegnamenti di Pierluigi Nervi. Io cosa posso dire oggi? Ho pensato che forse potevo fare un piccolo ciclo che inizia e finisce e l'inizio è una domanda che mi è stata fatta diciamo a bruciapelo quando io all'inizio incominciavo a interessarmi di mio nonno in modo pubblico con la mostra e via di seguito e davanti alla televisione mi hanno detto quale singola cosa si ricorda meglio, ha fatto più impressione dell'insegnamento di suo nonno. Io ero rimasto un po', non ci avevo pensato, ero rimasto allibito ma proprio per un secondo e ho detto il modo in cui lui trattava l'ambiente familiare e la casa perché è di lì che inizia il governo delle cose. Lui aveva un grande sintonia con la moglie Ida con i figli, con i sette nipotini, le nuore ma anche con i contadini della proprietà appunto si ritorna al vino che ha iniziato il discorso perché lui parlava con i contadini sentiva cosa avevano da dire, non era solo un pur parler, era proprio uno scambio vero e incominciando a leggere di più Luigi Einaudi ho capito che quella mia impressione era proprio un sentimento fondamentale nel pensiero di Luigi Einaudi. C'è stato un periodo molto difficile, per dire poco, che mi ricordo ancora io poco ma c'è stato un periodo quando Luigi Einaudi che insegnava alla Bocconi, il fascismo gli era levato, scrive per il Corriere della Sera, Luigi Einaudi si è dimesso perché i fascisti avevano levato la possibilità di parlare, ha levato la dirigenza Albertini. quindi a un certo punto l'unica cosa che gli è rimasta, hanno anche levato, hanno chiuso la critica sociale e il nonno doveva obbligare, cioè il fascismo obbligava il nonno o chiunque era professore all'università di giurare fedeltà al partito fascista e questo non lo voleva fare ma allo stesso tempo aveva una famiglia, doveva continuare a lavorare mio padre, ad esempio, io sono nato in America perché mio padre che in quel periodo insegnava all'università di Messina ha deciso che era meglio emigrare e andare in America così io sono nato in America ma a quel punto mio nonno decise di andare a Napoli a vedere il suo amico Benedetto Croce per chiedere i suoi consigli devo giurare o non devo giurare e in quel caso, in quell'occasione Croce gli disse è meglio che tu giuri ma fai una riserva mentale all'atto del giuramento perché se non giuri ci saranno tanti italiani tanti giovani studenti che apprenderanno tutto del fascismo invece devono impararlo da un uomo libero e così fece e alla caduta di Mussolini fu nominato rettore dell'università di Torino ma durò pochi giorni in effetti e quando andando a Torino da Dogliani venne informato sul treno e poi dalle amici che venne a prenderlo che gli SS e i fascisti lo stavano aspettando all'università lui non aveva scelta che fuggire in Svizzera e in Svizzera non vi racconto perché abbiamo da ascoltare molte persone stasera i problemi che ha dovuto affrontare però era anche un momento di direi quasi esplosione di sentimenti di scritti e io vorrei analizzare per un secondo uno di questi elementi che lui ha sviluppato durante l'esilio svizzero e ritorna proprio a quella frase che avevo iniziato cos'era che mi ha fatto più impressione di mio nonno negli scritti che faceva per il risorgimento la rivista Risorgimento Liberale diceva che la vita la politica inizia inizia dal locale nemmeno dal comune dall'associazione dalla famiglia non ha adoperato quella parola specificamente ma dal piccolo per poi andare al comune poi andare alla regione e infine allo Stato ma quello che era importante capire è che non dove affermarsi allo Stato ognuno di queste zone la famiglia il comune la regione lo Stato ha degli elementi dove è fondamentale che sia lui a decidere ma ci sono altri elementi più alti dove ci vuole un'organizzazione sopra lo Stato che in quel caso era l'Europa e adoperava anche la Svizzera che era uno Stato federale come un esempio l'America come un esempio ed era fondamentale pensare ad avere un'istituzione sopra gli Stati e questo è un elemento che non solo ha sviluppato allora ma ha sviluppato già durante la prima guerra mondiale e addirittura in un primo articolo sulla stampa del 1898 dove parlava degli Stati Uniti d'Europa così oggi che sentiamo in giro tante persone che osteggiano l'Europa sì l'Europa non ha sempre fatto bene perché forse non ha capito fino in fondo anche ci vuole una politica europea e non solo un'economia europea perché anche anche mia nonna diceva se si vuole l'economica si deve iniziare dal politico cioè non si può pensare a fare le cose a metà così questo è un augurio di mio nonno per un futuro più intelligente chiamiamolo dell'Europa augurio a tutti voi anche per stasera grazie grazie grazie